Monday night per la Turris che scende in campo nel tardo pomeriggio nel posticipo del Liguori ospitando il Catanzaro secondo in classifica in una partita importantissima per tenere il passo delle migliori squadre del girone, tutte vittoriose in questo turno. I Corallini arrivano col morale alto dopo due vittorie consecutive mentre i Calabresi hanno ripreso il passo giusto nella scorsa giornata dopo due stop. Mr Caneo recupera sia Ghislandi che Santaniello mentre in mezzo al campo si rivede Franco al posto di Tascone assente per squalifica, out anche lungo per infortunio. I giallorossi allenati da Calabro invece si presentano al cospetto della Turris con l'assenza fondamentale di Scognamillo nel reparto arretrato ma che punteranno sicuramente sul bomber Cianci. Allo stadio ad assistere alla partita ci sarà anche il presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli. Fischio di inizio fissato alle ore 17.30 con diretta in chiaro su RaiSport. Dirigerà il match il signor Marini di Trieste, assistenti Salama di Ostia Lido, Ceolin di Treviso, quarto uomo Maranesi di Ciampino.